Allora, buongiorno, il mio nome è Stefano Sanna, io mi occupo della direzione vendita e direzione commerciale della Screenline per quanto riguarda le vendite Italia. Siamo qui all'ISE di Amsterdam, dove come tutti gli anni interveniamo con il nostro stand, dove incontriamo la nostra clientela che è composta al 70% da distributori esteri. Quest'anno abbiamo presentato alcune novità, tra le più interessanti la novità che riguarda uno schermo con meccanica tradizionale, quindi con svolgimento per effetto di contrapeso e di gravità, che verrà realizzato fino alla misura di 10 metri. Fino a ieri non era possibile e si arrivava agli 8 metri e mezzo. Altra novità che abbiamo presentato è la nuova serie Wave. La nuova serie Wave sono degli schermi con un cassonetto rivisto nella forma, nella parte estetica. Si tratta di un cassonetto con il quale realizziamo diversi modelli. Questo in particolare è un modello multiformato. Si compone di due teli attraverso i quali tramite il telecomando si possono determinare e visionare i vari formati, dal 16 noni al 4 terzi al 21 noni eccetera. In più sono 8 posizioni memorizzabili, 4 sono di default e 4 sono memorizzabili dall'utente, quindi se le può adattare come preferisce. Poi la stessa serie Wave può avere o meno uno strip di led luminosi, posteriori, attraverso i quali si ottiene un effetto luminoso molto gradevole e anche questo può essere scelto dall'utente perché si tratta di uno strip di led RGB. L'effetto al buio è molto piacevole. I riscontri che abbiamo in particolare dal mercato del nord Europa sono molto soddisfacenti. In Italia noi siamo anche i distributori della Epson, quindi attraverso una rete di vendita composta da 10 agenti distribuiamo i videoproiettori. Qua abbiamo una piccola testimonianza di questa attività con tre proiettori Epson della serie G5000 in full HD che proiettano su uno schermo di 7 metri un'immagine realizzata in blending con la tecnologia di Vioso che è anche il nostro partner per il mercato Italia per le realizzazioni di questo tipo. Il resto del catalogo si conclude poi con degli schermi a telaio, ancora schermi motorizzati per tutte le forme, le misure, i mercati dal professionale a drone cinema e gli schermi a telaio come dicevo che sono realizzati sia per il mercato domestico con dei telai eleganti ma di sicuro non idonei all'utilizzo stressante del service ma abbiamo anche i telai professionali, i telai per il mercato del service come ne è testimonianza per farvi vedere una piccola base di sostegno che sostiene uno schermo fino a 10 metri molto leggera, pratica, comoda ad aprire ma chiaramente parliamo di altri mercati.